Un polle Su pazzo! Eh, l'ho detto, quello non è certo un sistema safe Non si tocca dentro Dentro qua? Ok In alto? No, ma l'esercizio Ah, c'è questo Quello che... C'è la città 5 A Munin Vado? Quando siete pronti dimmi Vado? 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 Vado! C'è l'acqua Vado! Vado! adesso è l'attacco decisamente tra i parchi e tra i principi